Maurizio Dasero, sindaco di Asti, siamo qui in questo bellissimo palazzo a presentare un evento che parla di tartufo e vino. Sì, in una delle sale più belle che abbiamo in città, perché questo salone recentemente ristrutturato è veramente una delle cose più belle che abbiamo da far vedere ai turisti, l'abbiamo deciso proprio perché è una delle cose più belle di utilizzarlo oggi per uno dei prodotti più importanti in questa conferenza stampa che dice alcune cose importanti, essenzialmente che c'è una collaborazione in atto fra più territori, in particolar modo fra l'Astigiano e l'Albese, un percorso che è iniziato con la TL, stiamo procedendo come tutti sanno per l'unificazione della nostra con quella di Alba, Bra, Lange e Eroero che diventerà Lange, Monferrato e Eroero, stiamo facendo delle collaborazioni con una serie di territori e con delle amministrazioni che abbiamo intorno e in questo caso qua è questa importante collaborazione su un tema importante, su un prodotto importante come il tartufo, sappiamo benissimo quanto il tartufo sia importante per la nostra città e per il nostro territorio, per il Monferrato o tutto, come sul nostro territorio ci siano importanti fiere del tartufo che hanno ormai raggiunto la denominazione di fiera nazionale, ricordo su tutti Moncalvo ma non sono da meno Montechiaro e altri paesi che abbiamo in provincia, Montiglio, la fiera di Asti è sempre stata solo una fiera regionale, è sempre stata una fiera un po' sotto tono, vogliamo fare qualcosa di diverso, diciamo già da subito che la gente non si aspetti 100.000 visitatori alla prima edizione, però speriamo finalmente, lo diciamo da tanti anni, questo bisogna dirlo, è l'anno zero, ormai sono 20 anni che si dice questo l'anno zero perché sicuramente adesso miglioreremo e noi riteniamo e speriamo che sia definitivamente l'anno zero per iniziare qualcosa di importante con qualcuno, in questo caso l'ente fiera del tartufo di Alba che è il soggetto principe in questo panorama di eventi dedicati al tartufo che ha ormai intorno al mondo del tartufo creato economia, creato turismo, creato presenze, creato movimento e creato qualità. Probabilmente perché è partita anni fa facendo un ragionamento di tipo culturale prima ancora di mettere dei banchetti e di fare una fiera. Allora per fare cultura di tartufo vogliamo iniziare con loro un percorso unitamente a tutte le altre istituzioni del territorio, ringraziamo quindi la fondazione della Cassa di Risparmio, la regione, il consorzio dell'Aste, il consorzio del Barbera, tutti gli albergatori e ristoratori della Confcommercio, tutti i soggetti che ognuno di parte propria contribuiranno al buon esito di questa iniziativa che abbina il tartufo ai nostri migliori palazzi. Quindi ci saranno delle degustazioni, ci saranno dei momenti anche di dibattito, di confronto, quindi momenti scientifici, analisi olfattiva, ci saranno tante iniziative e noi abbiamo messo a disposizione i nostri migliori palazzi, le nostre più belle sale per contribuire al successo di questa cosa. È un primo passo, un primo passo a cui ne dovranno per forza seguire degli altri perché non possiamo abdicare a dire con forza che il tartufo è qualcosa di importante per la nostra città e per il nostro territorio. Grazie